Strada chiusa. Ziad. Forza, Joe. Faremo una passeggiata. Cosa? Una passeggiata. Papà, sembra che Romeo conosca già la strada. Forse sente che l'Italia non sta aspettando. Secondo te è possibile? Certo. Sì, sì. Ascolti come è possibile. Sì. Aiuto, Romeo. So che riesco da un mare sani salvo a Cacchina. Romeo, vieni dietro di noi! Andiamo! Dai! Ciao!